Vai, no, tu devi dire la prima fase, esattamente qui Ciao ragazzi, vi ricordate dove ci siamo lasciati? Esattamente qui Tutto è partito a Natale, dove Scud doveva scegliere il mezzo perfetto per consegnare i regali Se non vi ricordate vi lasciamo il link qui per guardarvi il video Esatto, l'iconico mezzo italiano gli ha trafitto il cuore E adesso vi portiamo a vedere cosa è successo Cosa? Dai vediamo Oh Scud Eccoti Sei qua Scud cosa stai combinando? Dai dici un po' Ma qui ci vuol dire che vuoi tornare a correre? Con la Vespa? La 500 km di pomposa? Beh Robin, potrebbe essere una buona occasione per sviluppare nuovi prodotti Avvicinarsi al mondo delle appassionate, un po' al racing E il telaio? Ah ma nell'archivio ci hai portato Qua si può veramente trovare di tutto Guarda che roba Pazzesco Adesso si che possiamo cominciare Dai Robin figata Progetto approvato Per un'idea pazzesca ci vuole un team pazzesco Sì, un team RMS che lavorerà davanti e dietro le telecamere per compiere un'avventura incredibile Attraverso una serie di episodi daremo vita, sì, al Vespa Project Prenderemo un telaio e lo trasformeremo in una Vespa da competizione per partecipare alla 500 km di pomposa Una competizione sportiva che si terrà a settembre Robin, ma raccontiamo il vero motivo per cui realizziamo questo progetto? Perché quest'anno il nostro catalogo Classic compie 10 anni Passeremo da circa 300 pagine a 600, tutte piene di novità Utilizzeremo la maggior parte dei ricambi disponibili nel nuovo catalogo Per costruire la nostra Vespa Insomma, un sacco di contenuti per gli amanti del mondo Vespa e non E non è finita qui Mi raccomando, seguiteci perché alcune scelte le farete voi Nei prossimi episodi vi presenteremo il nostro preparatore in una fantastica location Dove verrà realizzata dall'inizio alla fine la nostra Vespa Quindi un bel like, attivate la campanellina E se avete due minuti in più andate a vedere la nostra pagina Instagram Che ci sarà qualche spoiler su questo progetto Alla prossima Cassa a martello Grazie a tutti Grazie a tutti